Allora, ciao amici di Legnana Web TV, abbiamo qua Giacomo Poretti. Ciao Giacomo. Ciao. Grandissima emozione questa sera. Cos'hai provato? Eh beh, un tuffo al cuore perché ho visto un sacco di gente con cui ho condiviso un bel po' di strade insieme, i miei compagni di scuola, ci si vede con gli anni che passano, insomma, è emozionante. Insomma, è stato bello ritornare qua a Villa Cortese e condividere questo momento con tutti loro. So che stasera abbiamo visto che hai firmato tantissimi libri, tantissime dediche. Allora io ti chiedo progetti futuri? Ma guarda, adesso con i miei soci stiamo in giro con la tournée teatrale, arriveremo a Milano fine febbraio, staremo tutto il mese di marzo e poi dopo la tournée teatrale che finirà in tarda primavera, scriveremo il soggetto per un film che uscirà nel 2014. Ok, quindi noi invitiamo gli amici di Legnano Web TV innanzitutto di comprare il tuo libro e poi invitiamo tutti gli amici ad andare a vedere i vostri spettacoli, visto che ci siamo. Quindi lettura e teatro. Grazie a te e buona serata.